E con questa dichiarazione forte, anche questa sera cominciamo la nostra live. Greetings e bentornati nel canale di Chromatic Scale. Io sono Icarus e qui con me ci sono il buon Ravenhard, tornato con noi e l'immancabile silenzio. Questa sera siamo nel Grimdark di Warhammer 40.000, il 41esimo millennio ci attende. Ammesso che... Eh vabbè, parello, dagli tempo. Ammesso che non esploda la RISC collegata all'Xbox? No, ammesso che non esploda la RISC per la necessità di... Il secondo profilo, quello dell'ospite, è primo che può fare questo giorno. Se andremo offline sapete perché? Esatto. Pronto c'ho il telefono che sta prendendo fuoco da sotto. Unica, unica che... Chromatic Scale, sai quello? E funzionano anche... Le notifiche funzionano, direi un posto... Quello di Lattesco... Senti che musica... Ah, il mio fantastico inquisitore dal nome misterioso perché non sono riuscito a modificarlo. Te ne sento, è stata la... Sì. Aspetta, facciamo così. Allora... Allora... La... Sembra che la piacciono... Finalmente sono riuscito a mettere le mani su questo gioco... E mi ispirava un sacco... E mi ispirava un sacco... Caterina... Il fonte di comando della nostra fantastica nave... E... 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 Attenzione... Perchè abbiamo una chicca... Greetings! Anche il nostro inquisitore... Saluta a modo... Vediamo subito se riusciamo a giocare in cooperativa... Adesso vedremo se lo stream crascia oppure no... Ciao! Comatic 1... Ok... A te la scelta... Con lo spadone gigantesco... Sì... Inchiudato... Sì... Ora volevo giocare all'Omino... Ma che facesse anche qualcosa di simpatico... Che preme A per... Vabbè... L'anteprima del personaggio eh... Trasportano Psicoide... Qui la traduzione gola sul livello altissimo... Psicoide? E il punto designato... Aha... E qui facciamo... Aborzon Flaminius... Evoca un'opera immobile... Devi fermare il tempo per 30-50... Ah... Sembra veramente... No... Anche questa ce l'avrà immobile... Com'è che tu sai... Move set... Spada e bastone... Più doppio bastone... Tu sai... Spada e pistola... No... Bastone e pistola... E doppio bastone... No... Bastone... Oppure... Spada e pistola... Tra l'altro quella... A occhio... Sembra appena melta... Ma... 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 Ultime... Salute... La nostra capitana... Saluta la Stropa... D'un po'... Io saluto lo Spacemarine... A notare la lentezza del mio crociato rispetto all'Obsyker Ok, ci buttiamo subito all'avventura nel Grimdark Arma stazionaria, macchina di demoni Demone del caos e cultore del caos CULTORE 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 Il romo di cultore L'hanno evidentemente tradotto Quando Google Translate derubo il lavoro Viene Anche voi verrete rimpiazzati da Google Translate o da le traduzioni fanhawk Assolutamente sì Vorrei ricordare sempre fucilasere e pistolasere Invece che l'Hasgun e l'Hasbist Invece ha un po' di fucilasere in un libro Assolutamente Chissà la Melta come l'ha riprodotta Ma vabbè L'originale è Melta-Gun Sì, però Visto la sciogliente Sciogli stuola Sciogli stuola Ordini sventa il tentativo di intrusione ostica Siamo di sventare questo tentativo di... Non scrivere Esatto L'nemica ha ottenuto l'accesso ai depositi di memoria di un'installazione imperiale caduta Gli sciagalli stanno cercando di decryptare i dati che potrebbero compromettere l'operazione dell'inquisizione Nierati immediatamente carica le contromisure attraverso la rete di cogitatori Un altro cogitatori l'hanno tradotto abbastanza bene Sì Cogitator L'abbè Sì All'trott In questo caso Ecco Qu'è il dasselro ilworkers Unatsu Quanto mi ch 45 Se quello showcallata la pistola Beh 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 Io theọ di dormire BING 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 Che cosa fa? Da scaldato il cucile Non sia niente Vai ricarica VAAAA O Vабamo aggiungare il bust 1 H Canta di buona Ehi Perchéés è che c'è la note buu buu guarda guarda ripsilo dio dio muolo bloccato dell'aria è una lampa è volato che cacchio ne so è in fianco il mio fucilato fucilato il plasma metto ltt aspetta è qua ltt evoco delle rocce dal pallimento per tirarle alla sente perciò non c'è dammi una malzette va mi voglio tirare la roccia mi dia una malzetta va guarda guarda la roccia oh no no non posso tirare la roccia ho sbagliato ma se premi il tasto misterioso che 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 mi dia che 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 perchè continui a mirare quella direzione perchè che 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 se Scusate! Se premi è R3 La levetta non la giga destra, se targetta i nemici Io sto segando un campione tra i voli Mi ha la spada chica, la spada catica Arrivo! No, mi ha fatto espergar, poi mi ha devastato Buona inferna! Oh, mi ha dato drop in bar E' quello adesso già, bro Lugare! Le staffa mi ruini Armatura in Pirea Gatemi il fucile al plato La gente è già morta La gente è già morta Nooo Vieni a batti con R4 La trap La mente è un rocket trap La gente è morta La gente è morta In campione della legge La gente è morta La gente è morta Sto parando uno psicoider Ma a me si è scattato Mi ha detto 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 Questa sera Se hai usato Lino curatore Ah, c'è qualcosa da fare qui Aspetta, c'è incogitato Tra lì Ha detto Con buon condito Mi dovrai proteggere Mi dovrai Mi hai detto Si è morto Non scegliere Ma non si è morto Ma non esiste Ma non esiste Ok Mamma mia Era meglio il flicilaser rispetto al flicilasma Mi è incastrato su una copertura Aspetta, veci voglio 10 minuti per farlo Recoil unclean Recoil unclean Eeeem Arrivo Come ho tirato uno scudo per sbagli Ok Sto facendo più col flicilasma Come vuoi? Scusate l'illuminazione ma non vuoi che faccia sono una ricarica infinita se potete permetti di prendermi a patate la legione nera sei uno schiavo di abaddon non ti temo abaddon lo spoilerone forziere apri il forziere non sono nesca cosa soffa nonnetta sentinella overheat vancouver rumore palas ma ragazzi ragazzi vai 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 vipetti tuu quel computer Ah, sono in copertura, non vedevo Non vi vedo ma non vedevo, aspetta a poter vedevo, ma magari Ah, sono in copertura, non vedevo Aspetta a tirare quelle bolle dappertutto Porca miseria, mi è morata addosso con lo Facebook Oh, la catena è 1720 Vedevo, vedevo Pagano un campo devianto 3 avevi bisogno della mano mago da altra parte ma non soppressato non soppressato non soppressato non soppressato ma lo soppressato spaventare Uuuuh, le cianfusaie Overwhelmed, che dovrebbe significare Overwhelmed Fada Biomantica Lama di Eterri Marte Gravitica Aspetta, impianta triccia Sono spaventato La triccia da tracquarta E' un Dreadnought E' un Dreadnought La tricchieria, mamma mia, è passata un'altra volta E' un Dreadnought Ripenta Ripenta Penso che stai morendo, cosa ancora? Overheat Oh, io sono subito E' un sistema ultramarino della legione nera arriva dentro no Lo muove ma sono strette con tutti Imidio R&D, dove hai tu? poi l'è bloccato guarda, sono spazzato dalla parte del bagnato non puoi nulla contro il mio fusile al plasma che si scalda di continuo 3, 2, 10 non muordo però una staffa, due staffe che non utilizzerò mai gli diamo perdono per la confusione ma evidentemente la gente deve per portati, troverete i motorini per farlo assurdo da me no, devi tenere un ruolo devi tenere un ruolo devi tenere un ruolo devi tenere un ruolo no no ah adesso si deve non posso colpire ok però che copertina ok non il mio ci ci e' l'ho visto e' l'ho visto se riesco sabato a sistemare tutto dovrebbe essere la missione completata l'ho fatto io ah no, l'ho fatto adesso l'ho fatto un posto per favore l'ho arrivato non forse e' l'avvento vince ah porca vigere pronto? arrivo ma non sai che dov'è andato? abbiamo finito la missione quindi esci teletransportiamo vino a che è partito Frozer? guarda che bello un cavaliere te lascio il mio pad silenzio ah io ragazzi domattina devo lavorare quindi che abbiamo fatto? no è presto ok in casa di dove? a mezzanotte a mezzanotte sono delle chiare difficoltà sei chiaramente conto io oddio ho quasi te qui no? ho fatto un sacco di champrusai ma cià sta vicino eroici eroici completati lascio il mio pad così potete avere ah qualcosa non doveva accadere qualcosa non doveva accadere qualcosa accaduto ho impato la bottiglia inventario e stracollo vendi 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 adesso vende tutto tranquillo vendere tutte le cose che non ci passi guarda lui ci ha messo e li gioca a nessuno sì sì noi siamo chiaramente i miei competitivi ah la pistola infernale ah richiedegli un gioco c'è ogni missione tipo no sì che nemmo scontato mai stile omicel è una cosa da questa roba omicel omicel ok perfetto veramente pistola lampi che dovrebbe essere quello che è la pistola lampi gravi pistola marti gravi pistola mars pattern graf gun graf pistola eh quando si traduce con i traslates della pistola plasma è una grande grande spada grande spada grande spada grande spada perché era cresciosa quindi grande spada l'altro il lo storm shield veramente merda artigiano l'altro 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 è stato un piacere l'altro l'altro è stato un po' l'altro l'altro è stato un po' l'altro è stato un po' l'altro bene buona buona notte grazie e grazie buon attire ciao ciao grazie guarda la roba da be ho fatto un po' di pulizia in realtà avevo due scudi non sto leggendo minimamente le descrizioni di oggi guarda per colori infini guardo il numerino che c'è scritto fino con amore la devo vendere anche tutte queste 500 grandi spade allora c'ho 54.000 soldi un'altra frammentazione 12 ok abbiamo dei signum da cambiare anche il personaggio da dopo te lo dà a livello che io sappia sì due signum inutili e qui c'erano tre che sono super minimi 435 29 via tra l'altro ci è arrivato un nuovo follo nel ventre olè andrebro follo grazie grazie assolutamente e benvenuto nella community dei chromatic scale il torneo il torneo correre del dashboard sarebbe fatto un'illusione riscordi quella arate armatura d'assalto ovviamente la barra di scorrimento è trasparente No, perché è sottile, sottile, sottile. Gli alert compaiono. L'altra volta erano comparsi. Ciao Andre Bloch. Ciao, buonasera. Sottile. Un brinco. Comprare un'armatura d'assalto. Una coscella armatura da demolizione. Non so, io... I warhammer non è che ci capisco molto. Sono desperto. E abbiamo un'armatura che dà più trea da quella attuale. Eh, probabilmente è l'unica live. Sì, probabilmente siamo... In questo gioco al mondo. Al mondo, esatto. Armatura da demolizione. Quanto costa? Anche noi stiamo riscoprendo il gioco adesso. Sì, un po' in ritardo, però... Eh sì, basta. Oh, che è successo? Tu le armature da demolizione. E' un po' di inventare... inventarsi qualcosa. Allora, innanzitutto c'avevo una granata frammentazione più potente. Ho sbagliato tasti, come sempre. E' questa da dove? Io dello scudo. Meglio dello scudo. Avevamo l'armatura da demolizione. Oh, finalmente i lanciamissili un'altra volta. Possiamo fare bordello. Pistola automatica perché non... Sparafiamme, basta. Sparafiamme. Sparafiamme, pistola, plasma. Quasi quasi metterei lo sparafiamme. Approviamolo al posto del... Oh, guarda che stile. Signoranza pura. E' bello il suono della motosega. Ho cambiato, adesso andiamo in giro con la grande spalla. Devo cambiare i signor. Signoranza. Sight? Sight. Grande spada. Sight pattern greedsorde. Trasunzione, vabbè ok. Spada sega. Vedece che spada Caterm. Pronto, questo meno tre, ok. Tenate, va bene... Che volevo fare... Parte. ahia dai arrivo no questo no questo è quello valore ok benissimo anzi invece che la grande spada abbiamo lo scudo ma io continuo ad avere il tizio a volarmi ok userò il di abita a caso si fa fare i greetings la freccia è tenato ok prendo un altro paio di cose tanto per dire questo è l'automatica via fucile laser questo da 24 via 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 l'infernale marte che l'avete visto ma è sicuramente quando c'era la seconda questa mandata di avanti mega stra giga loot guarda l'ultima volta che ci ho giocato da solo ci ho detto depurazione legione d'avanguardia del caos ma si cambia le missioni ma si cambia le missioni forza voglio sperare no vabbè io non ci sono abituato a dei giochi così quindi dov'è il selettore ok quando le complici viene a dare a rimuovere no situazione sigma da una vedezza situazione piccola avanguardia tra le regioni dier tagli adeptus vivendo una sterofortezza morto di progettazione innegabilmente umana qualsiasi cosa avrebbe potuto fare luce sui suoi abitanti originali è stato meticolosamente rimuovo bene cuore nero che batte nell'Eder e e sembra 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 i viaggi a velocità iperluce di Mass Effect Andromeda a 5 fps per colpa dell'hard disk esterno no però io sono livello 130 i missioni sono livello santo eh vabbè ma vorrei vedere se ci possiamo e guarda se ce ne sono di dove lo provato adesso mi starà aiutando ma probabilmente vedi ecco il livello quindi dal sistema direi che il rosso mortale non riesco a cambiarle giallo è il doppio di quanto siamo è il doppio di quanto siamo è il doppio di quanto siamo ma c'erano un po' sarà una missione di livello un po' più alto ecco oh benissimo santo santo ma è quella di livello più basso ah si venditore di santa belardo per avere un po' di ciali l'influenza di sistema c'erano non ho idea di quello ma ci sono ricompense a seconda di quattro dei punti underblow l'hai già giocato questo? no 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 ciò la regione alfa vai 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 vado 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 c'è cischi non mi perderò un combattimento con la regione alfa assassino non capisco se sono pensa o alla faccia livello 80 ah deve uscire un aggiornamento quindi per console noi siamo su xbox one penso che esca lo stesso aggiornamento che deve uscire per ps4 cavolo quindi comunque continuando a supportarlo tra l'altro se non mi sbaglio è 80 c'è sto gioco a livelli più per le missioni più alte possiamo chiamare ah no aspetta no è solo su ps4 ps4 aaah se no chiamavamo lui il cop c'è se non mi sbaglio sto sto gioco è tipo è quasi ma sarà al solito doppia ma sarà non so e le del franchise non conosco poco quindi ricordo ma saranno beh diciamo che la games workshop quando si muove si muove per bene quello è vero però hanno aggiunto un loot superiore alla le reliquia po 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 andiamo con il games ti conosci? 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 doppia ho raccoglio tu conosci? and ok ecco io che credi che volevo qualcosa quindi non ok allora questo è il fuoco infinito è stato il level K100 una fiammata per tornare con l'indietro l'entrimento disaprimento seria e va negli insieme ae bisogna esplodere tutto guarda a sparo e torna indietro uiiiiii aspetta che arrivo sto arrivando a più pazienza la precetta in basso dobbiamo ammazzare tutta sta gente no? dobbiamo ammazzare quei tre potete stare in mezzo del nulla che spira stiamo camminando sul ghiaccio? si ahhh oh ma c'è una bomba le scudo dopo le due il territorio della legione dell'alpha si sta rivelando ecco bravo Dio Dio che è unclean adesso che va distrutto pure questo brucia la statuina no vestiti qui c'è non capisci che cacolo sta stai correndo? no allora per l'imperatore per l'imperatore tira con le tira tutta la cosa ma nelle tiri la tiri il sasso per lo scudo io comunque sta tranquilla è in casino anche per me con i tanti che stai arrivando di non lo so ah sto arrivando sto arrivando Un po' sciolto, che cazzo dovrebbe significare quel po' sciolto? Guardate l'auto Un'arma La freccetta destra Non ci credo, ho troppato un'armatura, l'ho comprata adesso Va bene, farà schifo Però non ci cambia proprio l'arma del cazzo Ma ci avevo la spada e lo scuro Sì qua, può prenderti a scadar Guarda, non so cosa sto facendo Guarda lo scuro Guarda la gente Sto morendo, sto morendo Perché mi corre verso il nemico? Stai, 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 aiuto La piazza della gioia alfa non muore Non muore, non muore Io non sono morto No sono morti Siamo morti tutti noi Stantaneamente Eccoci, ok Faccio le mente Può vedere che stava succedendo Ok, siamo tornati a BNR Perish, Bill Mh, cazzo fa schifo Ho dato fuoco per terra Io te do una mano io Viii Sto dando la caccia al lantra Ah, sì Mh, cadi per terra Noi, fammi ammazzare questo dietro La stessa cosa che sto dicendo io ma mai gli dirò la palla adesso l'abbiamo impurato l'abbiamo impurato tra sassi e piamme ora sto camminando tutti i esteri quella pista stature mutante a dio un' un'altra 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 Non si chiama, non si chiama Non lo so che venga Aspetta Non si è uguale a fare la spada ah la vita dove avessi pure la roba rossa quel pulito ah il che botto si 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 I'm going to secare gente infatti, ho la mia... Oh, come hai fatto? Venite da di là Anderblow Che ne pensi della traduzione di questo giro? L'altro, l'audio com'è Niente Io non so niente Si sente benissimo No, ma giusto... E' bene, non ho mamma Moluto Ah, ecco perchè non moriva mai Ho visto delle scorte mendiche da qualche parte E' della vita al massimo Ma che senti il risultato Ma non... L'epì, questo No, era per dire che prima l'ho... Ho premuto ma non... Sono anche da lontano tra l'altro E se tiene target a una No, cintamente si mette in copertura in automatico Ma va Ho visto delle scorte... Ah, eccole, guarda, stanno qua Uno Vieni No, non le presi... Si si, li prende da solo Avevo visto delle scorte mendiche ma... Ma che... Ci rende male Andare a ammazzare... Un po' Un po' più che ho cambiato armatura Adesso sparo i missili Sto arrivando Sto arrivando Scusate, maledetti Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Spondante della regione Alfa E' scaldato Senti come canta Vai giù Aspetta 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 adesso E' la fine per lui E' facile Ho trovato una coscia e la staffa nella porta Che coordinazione gente Possiamo continuare a uccidere se ti interessa Il personaggio mi piace Lo psicoide perchè Psygon non ci piace No, è abbastanza da supporto Udo Jalan Abilità che blocca i nemici ad area Belle figa Anza a mano Perchè ti muovi più veloci Beh Oh un demone di Corn Vediamo che la pistola è inutile Si Puoi prendere un altro Psyker se vuoi C'è anche quello con il doppio bastone No vabbè Per adesso il livello di sfida insomma C'è stato un momento che è stato veramente complicato C'è stato un momento che è stato veramente complicato C'è stato un super mega ambush in 800 Eh 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 No Questo sarebbe veramente piccolo Ma... Quanti... Giocatori... Quanti giocatori ci fuori qua? Oh due È in copp locale eh Scusa Bello... Ah è locale ma... Gioca... Al massimo di altre giocatori online Eh beh è figo un po' Tipo party è veramente figo Bello alto Ok Essere divertente E anche impegnativo Parplasma 15 pistola Pimpati su Pimpati su Ma non ho idea di quello che fare in realtà Ho trovato un altro lanciafiamme che fa meno del mio Che fa schifo Dai abbiamo constatato che il lanciafiamme non è greco Sto vendo Dai spadone Spadone Ma beh Passa richiesta a Psicoide Se vediamo un po' 15, 14... Quattordici Quattordici Vorrebbe essere una Role Trader a quanto ho capito 6 Sì Doppio lanciafiamme Questo fa meno Quante sorretti Ha commerciato Che dovrebbe significare Forse... Forse è veramente un Role Trader Te l'ha dato di me No no Quello è mercante Corsaro Quando lo dice durante la campagna dice mercante Corsaro E i fucili E i fucili Non mi interessano i fucili L'azzeramento mentale L'azzeramento mentale serve per rimettere a posto i punti abilità Ho fatto caso prima Quindi spada, spada Aspetta via Un po' solo mentale Che è un po' solo mentale Che è una qualità più 1 Impianto principale Da più 6 Ok Penso che è quello da più 1 9 minuti Tia zera Caggia al video Spendere un po' di roba in realtà 13 10 14 Questa via Sì Al termatro Vessi canto Staccato Staccato Poi Staccato Upposare Il filo sensibile No Caggia Ancora Filo sensibile che se io posto il pad sul tavolino Staccato 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 hai i primi problemi con l'app di Twitch eh, perfetto ho di nuovo il controllo del mio vabbiamo il personaggio vediamo un po' allora, a me non piace il lanciafiamme quindi riprenderò il fucile al plasma no, meglio il fucile al laser perché è troppo divertente armatura teniamo questa perché sì, perché è più forte dovevo montare quell'altra facenda questo ehi il primo è che si monta, oddio no il plasma dice è 23 spade ah no allora provare lo spadovane 24 e 3 spade è quello che io volavo adesso no, quello che io volavo adesso è più scarso paradossalmente 24, quello che ho equipaggiato è 35 eh, però 2,8% ha tanto in più che tu i re ogni attacco di più no, vabbè, buh, strano, sì ok, andiamo dentro l'elmo cogitatore nel frattempo stiamo facendo la sauna sentite più, siamo collassati qui sulla stand facciamo questo assedio un assedio alla legione alfa compito è quello di distogliere l'attenzione del nemico da un'operazione ordo in corso distribuisci le coordinate indicate distribuisci alle coordinate indicate il fonditore non ci credo il giletermico l'hanno chiamato fonditore eh, vabbè il multifonditore, il multimetà oh mio dio qualcuno uccida chi ha tradotto questo gioco per favore ne sto sentendo male vabbè, ovunque sappiamo che è un'arma forte, ecco quindi quando ha troppo sì, il multimetà è un'arma forte ve lo sto d'accordo quando si giocava a Rock Trader il mio Rock Trader aveva una pistola melta ad una certa ad un certo punto si dormì si era su un pianeta feudale quindi un pianeta andò a cavo al cavo non ero certo andò a un giro con le armature e le spadine mi ha dormito dentro la grotta com'è dormita è una macchina non mi ha dormito la mia non mi ha dormito la mia potuto i miei abbia compreviare che i miei in questo caso è ah prendi quello Ok, adesso con il tasto destro e sinistro Ah, è un attacco milico Tasto sinistro, adesso richiede un attacco d'articchieria Ah, vabbè, era perdito Ah, si muove da solo Eh? Vengo premuto sicuro che ha un attacco Sì, sicuro che è Lugio sciolto Lugio sciolto Abbiamo anche lo spawnatore di fulgatini a un panico C'è stato, c'è stato un problema Oh, cazzo, è arrivato un campione valentore alba Affronta la mia spadona Nooo Ho guardato ieri, eh Ah C'erano delle mine su cui C'erano passato sopra Tranquillamente Non so, dove sono i miei? Non so, dove sono i miei? No, ok E' uno dei miei? E' uno dei miei? Sportati! Era sto... Era sto serboteschio che mi spolazzava sotto la testa Mentre dormivo Vai di qua Ho guardato al... Al serboteschio Al serboteschio Con la pistola merda Ho buccato il serboteschio E' uno dei sessi al periviere Il problema è che se le dà le dobbiamo con il progetto, no? No il laser è comunque benissimo quello che città taglia è il basso 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 vai che c***o è successo? non ci ho capito dietro 6 secondi e arrivano i soldati non ci ho capito 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 3 bombi troppo il vino dentro ah dentro la copertura è qua continuo a sparare nei poteri contro dentro ah non ci ho capito sono esplodono non so come ah vieni la mappa vieni la mappa vieni la mappa vieni la bomba vieni la bomba ecco lì vieni la mia c***o oh dobbiamo fare tutto di questa cosa frello non ci ho capito è un brugno scioso eh ok vieni la mia c***o un altro bannaccio vieni la forza che la forza sia con te psicoide un altro bannaccio Eh, dobbiamo tornare da capo Ma quanto riguarda le rinforzi? Greetings Cento secondi, allora spendiamo un'altra data Ah, non giusto Curato e non avevo visto che si era autocurato il personale Sì, la cura è automatico Ma come mai non è arrivato nessuno e il contatore si altera Forse spawnano in altri luoghi Conquistate i caltonutriettori punti piccoli Sì! Favono da un'altra parte, andiamo Spieghiamo la mappa Una delle medical supplies Ti interessa Bloccare! Ma le prendo tutte Avrete For the Emperor! Sperdazzo! Va bene. Ok. Iu! Iu! Burn! Burn! Tempo che io prendo a sfada di voi. Ok. Porca miseria, c'è un prendo. Ah, direi di lanciare... Dai, io guardi che ti arriva così giù. Ah, tutto in venta, in venta. Faccio, tiri. Te lo prenderò. Guardate. Dai. Dai. Dai, dai. Fai una bomba. Non è sto qualcosa. No, non è sto qualcosa. Non, non è sto qualcosa. Non è sempre che c'è la pita, la ultima lega. Bocca a tutti! Una bomba? Prendi una bomba! Sì, sì! Solo che sono in ricarica, quindi se aspettiamo due minuti te li faccio vedere, altrimenti... che non riesco mai a mirare tra noi! Invisibile il reticolo di... E' carino! A me questi isometrici non piacciono, però... No, ma eccolo! Ci giocavo un po' di anni fa, a Mon... per capire i... i visuali... e la montagna di armi! Merda! Ho trovato una pistola Ampo leone, ma forse mi potrebbe far utilizzare! Una? Pistol Ampo... Pistol Ago... Com'è che si chiama? No, quello era il Fucilago! Io ripeto, tutto sommato, a parte la traduzione, sto gioco è carino! Sì! Vabbè, adesso... Poi hanno vinto chiaramente questo! Mettendo il Cope in locale, cioè... C'è grande spada, fino a un mese... Un'arma... Grande ascia! Che significa? Che significa! Abbiamo ovviamente! No, molto un po' no! Allora, ho troppo trovato una... Pistola... Ma... no! Pistola lampi, ma non la posso usare! La moralità? Ehm... Devo idea! Perché hai dei perk da sbloccare, sì! Ah... Questo che è tipo... Grandascio, che vuol dire? Non me lo fa vedere! Sbloccato! Probabilmente saranno tipo... La Lentino, ora puoi usare anche quella! È probabile! Sì, eccola va! La pistola lampi è al prossimo livello! Il scudo personale... Ascia poterosa! Mi sarebbe l'Ascia potenziata! Granate! Granato assordente! Cosa poterosa! Ma hai tanti? No! Non c'è! Credo che devo sbloccarla con... Sulla storia! Ah... Però ho un punto abilità, qualcosa da mette! Per caso, tante volte, punti disponibilizzati! Mamma mia! Ma potrò... Passare tutto sto tempo a vendere la roba? Vabbè, lascia ce l'ha capito! Sarà un modo per... No, c'è un punto abilizzato! Per ordinarla, no? Tipo per rarità... Rivello... Penso di sì! Era calibrata! Beh... Poi io sto mettendo abilità a caso! Quei danni della vita a distanza è grande, eh! Era... Gli effetti a zona! Avevo preso questo che aumentava lì... L'effetto aumentato! Andro al secondo singolo! Oh sì! Già, è difficile! Ieri sono tutti feriti! Forti problemi! Resistenza fisica! Resistenza al caldo! Resistenza al caldo! Resistenza al caldo! Resistenza al caldo! E' figo che c'era tutto un alberi di abilità... Belli... Belli piedi! Belli ramificati, sì! E' una calibrata! Mi piace così! Voi puoi scegliere... Ovviamente non ho visto più! Ci sono agi, no? Diversi! Ci sono i vari classi! Ci sono tre assassini! Tre crociati e tre pus... 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 Aspetta un po', innanzitutto... Continuiamo a vendere cose! Allora, pistola automatica via! Questo via! Questa via! No, io compri qualcosa anche! E' la sera che compro! E' la sera che vendi! E' la sera che vendi! Eh... Che puoi rispettare cosa? E' me... M'è scoccio da marito e fa' sta cosa! Vabbè! No, ma dipende tu! Dov'è riorganizzato tutto l'inventario! Non farai off-live! Non fai... Ma sai, qualche equipaggiamento... più decente, sennò via! Qua è missione! E sto vendendo roba da praticamente dall'inizio del... La live! Farà fiamme pesante, questo 31, questo 35, questo 34... Via 34, via 31... Tanto colare 11... Tanto colare 10, 10, via e via... Vado da 31... Questa c'aveva 38.000... Questa... 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 Questa via... Questa via... Questa via... Questa via... Questa via... Questa via... Ah, già, dovevo comprare... Abbiamo detto di comprare... No, se c'è qualcuno non credo eh... Nella spada sega mia quanto fa? Vediamo se c'è una spada sega mia... 16... 7... 16... 17... 14... 15... Palla grande, non mi interessa... Si sta per riazzerare, però, questo sta per riazzerare Che hanno tutte statistiche... è tempo di stare a guardare cambiare il secondo loadout perché vi voglio la spada con la pistola al plasma che non trovo se se posso metter ma le due pistole ho un'altra pistola al plasma c'è una pistola laser che fa 16 e una che fa 16 a posto a posto il pistolero tutta la vita questa era più forte del mio quindi se me posto adesso vedrai con le doppie pistoline silenziale la di prima la missione mi ha giunto peccato che ste mappe sono sempre in casino non si distingue il terreno calpestabile dalle pareti prima o poi mi devo prendere deathwing mamma di tanto mi piace quel gioco quanto rosico che non c'è per la la one fps vabbè per la playstation 4 c'è veramente sarebbe bello che facessero una specie di vermin tight no per il warhammer normale qual è il vermin tight non ricordo cioè come è fatto è quello operativo è prima persona ma è operativo sai il party e no e missioni che non in prima persona dovrebbero fare tipo persona co-op online non è vernicamente vabbè vabbè ma da mi sono incastrato su qualcosa che non so ho che fattento non che si vada da questa parte ah ma sei tu quello che vola fermati l'ordino di fermarti stanno sparando ufff 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 non è che fai da di andare è un marina? che c'è scritto? spargi verbo spargi verbo spargi verbo world bearer predicatori predicatori scusami evidentemente l'ha tradotto o l'ha tradotto qualcuno conosci minimamente i fiderate tipo marty pistola la ah se non lo prendete scusami e ah no ha schifato partire io le i i i i i i i Psyker Psicoide, che è Psyker Ma si parla per bene Psicoide Ombè Ma perchè ci sono mine ovunque Armi si camminare tu Ho cose che esplodono Un terreno esplodivo Le marino espargi vero Basta Rai Psyker Ma che gans troca con la doppia piena Evo Il capitolo Marte sparafiamme pesante Esplodono i trottini Icoculatore con eventi di cui usavo lento inizialmente anche Taleta in queste belle è uscito e rimasterizzato e si è preso eh, se Taleta in queste mi ricordo che i tempi quando erano 5 mi era piaciuto parecchio adesso spengo il mortaio 1 less target to worry about keep going teletransportatore sai eeeh il 40.000 teletransportatore il teleportario e invece quello degli orchi e li porta ok qui ci sarà sicuramente qualcuno di grosso e cattivo perchèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèse è seduto su qua al ma comunque il terreno non c'è è un junk e siamo dove saremmo dove ho capito allora ci riporta indietro non è come prima che è perché vedi dove siamo ah dobbiamo andare dall'altra parte ecco perché consultare male la mappa di qua mentre che la mappa potevano anche metterla in un luogo un po' minore può spari anche il pistone anche qualche mazzato il truppo è l'esplazato il truppo è l'esplazato il truppo è l'esplazato la pistona è infernata sono troppo di basso livello oh scusa era un affare per far esplodere la far esplode lo sai che non lo conosco è l'altro il truppo è l'esplazato 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 hai bisogno di medico ciò c'è un bambino ha l'esplazato sottbello è cittata ha l'esplazato non finisce da esplazarlo non potresti quindi da presto la pistola al plasma che fa proprio zing dalla mappa no quindi non ci va da nessuna parte ci deve essere qualcosa di particolare su un bombo ma non trovo niente un'altra parte oh vedi che non si capisce dove si può camminare e dove no il grilletto facile che c'ha il visitatore pistolero ha aggiunto questa... allora con la Y fai qualcosa di fichissimo ma non capisco c'ha un tempo di ricarica infinito c'ha un tempo di ricarica infinito Y fai qualcosa di fichissimo ma non capisco c'è un tempo di ricarica infinito nooo te lascio uno dai lì mi servono le granate che lo tirate tutte dovremmo riuscire a trovare lì se il firmice è morto che vuoi in poi quell'altra batteria dei mortai oddio 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 c'è un... per la verga come si chiama? forno e? è facile ah che era difficile quanto mi stanno sulle? W e abbiamo rimasto una Mong col teleporto e poi dobbiamo andare di qua no? metterci pelli da quanto ho sentito però è un po' diverso è proprio GDR, GDR e GDR, eh dividiti morti 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 quella è proprio un po' di volo sono quasi BARDUSGATE, insomma ah tra l'altro fanno BARDUSGATE? tre? tre, sì, l'ho sentito è che tirano fuori, guarda, sono proprio vai giù, vai giù, vai giù e dopo tutto non sarebbe uno Spacemarino se andasse giù così facilmente eh, chiaro e gli spargiverti spargiverti, questi gruppi cambia a me a mezz'ora che stava lì a spargere il verbo spargere il verbo vengue e di sbarare non c'è più primari per le mie ARGOSCAN bene bene standard extraczione se vuoi rimarrere un po' più adesso è la festa del pistoliero aspetta non mi ha caricato tutte le vidi che si 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 costruggere le barriere si chi chi si 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 dietro oh lascia un elemento epico è anche un'armatura però non ho visto allora l'armatura è questa vediamo un inovulatore più forte ah 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 le abilità diverse però vamo che teniamo gentile ecco la mamma mia che c'ho dietro la testa ma guarda davanti cioè grandissima ora metti anche l'ascia vai certo questo che è roba mia visto la meta ovviamente non la posso usare perchè sono diventato scarso che cafoneria gente che cafoneria siamo a pacchia di da la sig ria bella positiva ma non fa brum brum scusa non è un' ascia un' ascia gigante ah è un' ascia potenziata ok no pensavo fosse pensavo fosse l' ascia catena perchè esiste pure quella che è un' ascia che è una schermata guarda quanto sono luccicante lascia una schermata su tipo luccicante gigantesco non non pensato a vedere le cose del nostro personale ok ci vediamo fra poco 5 minuti di e poi e poi non 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 ma non si Grazie a tutti. 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 Questa sera non l'abbiamo detto. Grazie a tutti. 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 No, ma io... non devi andare buona tante e poi trovi sei tu che per esplodere sei tu che per esplodere cose ok ma noi qui non possiamo che dash bellissimo ho aperto le scorte mediche in questo modo oh no non 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 ma non non ah RIVENT! 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 Mi è morto un po' di... F*** Come diverti... Teleport, Wecon, Enrico... Non diceva cosa... Ahhhh, piccoletto Un'altra granta Pupro Teleporta Che noi ci perdiamo subito Vieno Scorte, scorte Ah, si ne vieni a bruciare Eh? E allora beccati La stagia la mia latina Dove te stanno stando? L'ho lanciato tipo su un altro pianeta Aspetta 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 Sì, che è vero Spedito sulla strada ospera Guarda i medicinari tu Stai unclean Stai unclean Stai unclean Stai unclean Stai unclean Molva un bel gola E' l'ha trovato no, no, no lanza le quante di qua BORTIERE non so, Filippi voi o avveno un incorsione aerea sul bunker ICO non so, usa il terriborda non so, ui fuori come on kong morte? non, ioi bamba eee riii come è corno bro guarda che metto l'ascia è fuoco sentire già metto ah più caso è stato non è lato perché è stato obliterato non è lato perché è stato obliterato non è lato 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 l'ha rimosso dall'esistenza è esterminato oh mamma dò cos'è questo? è uno spettacolo è un'inversione non c'è cosa artigli potenziali a parte che è è uno space marine del caos poi quindi è tutto mostrificato e essendo rosso probabilmente sarebbe uno dei seguanti di Coor oh oh facchettiamo il nuovo facchettamento della cerata uscia viola oh livello di influenza ha raggiunto oh si storia poca miseria grande spada la tremiera grande spada la tremiera l'ultima pulizia dell'inventario poi ci salutiamo via de paziente l'ultima pulizia dell'inventario se no faccio la 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 con Garnage sembra veramente figo si eh? il tuo investigativo la ricostruzione degli eventi c'è la la sanità mentale non la follia che vedi tipo le musiconi crafting ci sono ha ha un doppiaggio fantastico secondo me vedi essendo sempre enti comunque un doppiaggio quindi non accetto veramente cosa che ho visto è che non hanno messo quello cioè non hanno aggiunto l'animazione per aprire le porte che secondo me è una cazzata un'anima arrivi e sbatti cioè prendi e sbatti contro la porta e si apre si me l'avevi detta sta cosa niente e l'animazione dell'apertura non la prese e che c'è qualche npc che si c'è in cui si ripete il magari ovviamente tipo abito diverso cose del genere magari si ripete unico ottimo vabbè alla fine è c'è una grande mappa esplorabile con i piramidani che ho visto non mi parso male le recensioni 8 e 21 ho venduto tutte le pistole ma questa cena tipo due ore di stream abbiamo fatto ah si ma rispetto a grand asher devo vedere il pistol laser il pistol plasma ah ah ma no questa è un pole a quella che so io no identica 2,7 si vabbè cambiano quelle cose che non guarda non me la fa vedere l'altra quindi non lo so com'è quanti soldi ci ho tra l'altro ora mi è sorto il dubbio 107.000 io che pensavo 139 di? non lo so avevo un progetto tra l'altro devo montare devo montare avevo più eh randascia rischidnata sull'uniculore ah 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 chi fa questa cosa come che ah vorrebbero essere le cose da costruire ma non so non mi fa scorrere niente ah lì 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 gli obiettivi no? anche là ah no, ci sono anche qui ho un'idea di come si forgino le cose dovrò informarmi al banco ah eh si, sarà tipo un forgiatore o qualche... no, questo è il deposito basta senza forza no ah c'è un tavolino che mi interviene la vitana l'astropate che non ci si può parlare ma eusthorn ancora dentro il bidone lo posso soldare lo posso soldare lo posso soldare saluto oh oh vabbè, mi informerò oh oh non ho ancora finito la storia infatti caglius torna ancora a vedere e lo sbloccherà di storia penso si si bene, quindi uff anche questa sera abbiamo fatto due ore di stream e niente io spero che questa nuova aggiunta la nostra sempre più varie sempre più varie di compilation poi poi non ci chiedate qualcosa in particolare noi continueremo cercando di portare a termine le serie che abbiamo cominciato e portare contenuti sempre più vari quindi io sono Icarus qui con me c'era l'immancabile silenzio questa serata si chiude grazie per averci seguito grazie per il follow e così via assolutamente fateci se ci state seguendo su youtube fateci sapere che ne pensate se avete dei consigli delle lamentele tutto quello che vi pare su YouTube tanto tanto ci trovano praticamente dappertutto e la la parte info se non mi sbaglio dell'app di Twitch mobile trovate i link alle nostre i nostri social cioè no prima o poi cominceremo a spammare i link esatto è una cosa da fare però i chat li trovate in descrizione nel canale molto bene grazie ancora di averci seguito e vediamo alla prossima fino ad allora buona fortuna ciao 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 ciao